Allora, Matteo Lione, delegato provinciale e regionale osservatorio immobiliare. Già con la vicepresidente abbiamo fatto un bel quadro e siamo entrati nel merito, però spieghiamo ai nostri telespettatori questo osservatorio e prima leggiamo il messaggio. Buongiorno Elena, volevo chiedere ai suoi ospiti se il mattone è ancora considerato un bene rifugio a Padova. Eccola là, prego, a bomba, dopo ti spieghiamo cos'è l'osservatorio. Sì, è considerato ancora un bel investimento, infatti mentre le compravendite si sono un po' fermate hanno avuto un rallentamento e come ha detto anche il nostro presidente nazionale Gian Battista Baccarini le compravendite delle seconde case non si sono fermate. Quindi la seconda casa come acquisto, come investimento, ha tenuto, tiene. Regge ancora, esatto. Regge ancora, quindi nonostante le tassazioni alte e tutto quello che comporta, tiene. Che tipologia di bene vale la pena considerare come bene rifugio, tra virgolette? L'appartamento sui 100 metri quadri è stata un po' come dimensione dell'immobile. Certo, quindi questa è la risposta. Entriamo nel merito specifico dell'osservatorio. Io l'ho detto prima in premessa, prima della pubblicità, una forte aderenza a quello che è la realtà. Cioè? Sì, allora ci tengo a sottolineare appunto che sono dati reali, dati che non sono stati ottenuti nei vari portali che tutti possono accedere, ma sono dati delle compravendite inserite da noi agenti immobiliari, controllate appunto dal centro studi FIAI, perché la mia collega prima ha spiegato benissimo di cosa si tratta, e successivamente validati dagli agenti immobiliari professionali della zona. Dunque sono dei dati proprio reali. Quindi vuol dire, a fronte di una transazione, se anche il valore è XXX, ma la transazione avviene con due X soltanto, quello viene riportato in questo database da parte dell'agente, e quindi è un modo per dire, agenti dovete tutti seguire questo tipo di procedura, in modo tale che poi tutti possano vedere in realtà qual è il valore dell'immobile, giusto? Non tanto soltanto la stima teorica. Noi inseriamo in un gestionale, inseriamo i dati del venduto, quindi di ciò che realisticamente è accaduto. Il centro studi lo elabora, ce lo re inoltre, e noi agenti immobiliari lo validiamo. In realtà una piccola quota di agenti immobiliari ha lavorato su questo poi, quindi ci siamo ritrovati e riuniti, abbiamo validato, quindi controllato e confermato che i valori inseriti dal centro studio e sulla base ovviamente delle medie, che erano sorte dall'inserimento dei dati, corrispondessero alla realtà, a ciò che veramente è stato venduto. Quindi non è una media nata appunto, come diceva Matteo, dai portali, da ciò che chiunque può prevedere, anche l'OMI stessa può prevedere, ma è ciò che veramente è accaduto nella zona di riferimento. Perfetto. Ecco qui vediamo appunto dei dati che ci fanno già, ci racconti, visto che ce l'hanno messo in onda, per capire che cosa avete analizzato, come l'avete analizzato. Allora, sono stati analizzati praticamente i quartieri appunto di Padova e tutti i comuni della provincia di Padova. Che sono tanti, uno non ci pensa, ma sono tanti. Esatto, esatto, e tutti i 101 comuni della provincia di Padova. È stato un bel lavoro appunto che abbiamo chiesto anche aiuto a degli associati e a tutto il consiglio che ringrazio e da questi dati, come è venuto fuori anche appunto negli azzettino che ha riportato i nostri dati, vengono fuori i valori a metro quadro, ma adesso per esempio a Padova, come avete visto, le zone più costose sono Prato della Valle, seguito dalle zone delle piazze. Ecco, voi avete diviso, tutto così descriviamo, perché non si riesce a leggere, il nuovo ristrutturato, ed è quella prima categoria, quella più scura. Esatto. Quella verdina, ottime condizioni, buono stato abitabile, quella marrone-arancione e quella lilla invece è da ristrutturare. E le zone sono veramente tantissime, c'è l'aeroporto, l'Altichiera, Arcella, Brusegana, Camin, Carmine, centro storico. Per esempio, centro storico abbiamo nuovo ristrutturato, va da minimo 3200 metro quadro, giusto? Esatto, a un massimo di 3600 euro al metro quadro. E invece da ristrutturare, per capire la differenza, parte da? 3800 euro al metro quadro ai 2000 euro al metro quadro. Quindi una bella differenza, assolutamente, in mezzo si collocano gli altri valori. Un quartiere, uno dei quartieri, per fare un altro esempio? Un quartiere che ha avuto anche un... Andamenti alternanti. Beh, che ha avuto anche una crescita nel valore al metro quadro, è l'Arcella, che ha avuto una crescita. Infatti, se possiamo vedere, del nuovo ristrutturato abbiamo un valore che parte dai 2100 ai 2150. Però per un vecchio, 900? Esatto, esatto. Quindi, però diciamo che la zona si è... Sì, si è riqualificata. Come mai? Beh, i fattori sono molteplici. Eh, no, proprio stiamo parlando di una cosa che magari... Sì, stiamo parlando, ci possiamo serenamente. I fattori sono molteplici. Intanto l'Arcella resta comunque una zona di grande interesse anche per gli studenti. Per la vicinanza comunque alla stazione e anche agli istituti. Certo. Ai servizi. Tutti i servizi che uno studente passa... Mezzi pubblici. Mezzi pubblici. Mezzi pubblici aiutano, perché aiutano gli studenti a muoversi velocemente verso le direzioni degli istituti. Quindi dipende anche da chi va a vivere in una zona che la squalifica o la riqualifica a seconda delle situazioni. Quindi anche la sicurezza di una zona o meno, i servizi che ci possono essere, questo è importante. C'è un altro messaggio. Anche le tifiche. è un investimento importantissimo. Questa è più che una domanda, è un'affermazione alla quale noi teniamo moltissimo. anche il nostro presidente nazionale ricorda sempre giù le mani dalla casa, ma nel senso giusto del termine, cioè che dobbiamo fare in maniera che sia un bene, un bene prezioso perché ci rappresenta, perché sono quelle quattro mura che ci proteggono, che ci consentono di far crescere la nostra famiglia. La casa deve avere la centralità e noi ci auguriamo sempre che dalle piccole, quindi dal comune fino ad arrivare al Parlamento ci sia una particolare attenzione al mondo casa. È determinante anche perché ha un indotto, quello della casa, spaventoso. Abbiamo visto che quando va in crisi il mercato degli immobili, tutto di conseguenza. Si ferma tutto. Si ferma tutto. Tendenze quindi che sono emerse da questo osservatorio nel territorio Padova e provincia, perché poi stavo dicendo prima che voi l'avete presentato non solo a Padova, ma contemporaneamente in tanti altri comuni, perché in tutta Italia. In tutta Italia c'è la presentazione a Milano proprio questa settimana. Quindi a Milano verrà fatto... Con tutti gli osservatori in tutte le province d'Italia. Perfetto. Quindi questo è importante. Qua vediamo i comuni di Abbrano Terme, Agna, Albignaso, come ce ne sono tutti i comuni del territorio. Qual è il comune con il valore più alto nel territorio circostante a Padova? Cittadella. C'è Cittadella? Cittadella seguita anche dopo dai comuni di grossa residenza come Piove di Sacco, Legnaro. Cioè che ha avuto un incremento, una variazione quindi importante. Diciamo che dei comuni che offrono dei servizi hanno un valore a metro quadro più alto. Consideriamo che non a caso è stata acidata Cittadella piuttosto che Piove di Sacco, per esempio anche per la presenza dell'ospedale. Ah beh, certo. Anche Legnaro appunto. Legnaro per la presenza dell'università. Ah, ecco anche quello rilevante, assolutamente sì. Abano Terme come zona termale. E come zona termale, quindi c'è sempre una ragione. Perché è una zona turistica, quindi può entrare in gioco zona turistica. Infatti facendo il paragone fra Abano Terme, che comunque ha sui 20.000 residenti, se non erro, come zona termale a Battaglia Terme, che è un comune confinante, però è meno turistica, è chiaro che c'è una notevole differenza del valore a metro quadro. E anche i valori a metro quadro, laddove si inizia da ristrutturato, per arrivare al da ristrutturare, ovviamente quello che i nostri colleghi, noi tutti abbiamo potuto appurare, l'aumento dei costi di costruzione e l'incidenza sul valore a metro quadro. Quando prima lei chiedeva le differenze perché si passava da un nuovo ristrutturato a un vecchio. L'incidenza al metro quadro dei costi di ricostruzione e di efficientamento energetico incidono oggi come non mai anche sui valori al metro quadro. Quali sono le tendenze? Si prevede un miglioramento sul fronte dei tassi di interesse. Dunque già questo è un fattore molto importante. Questa è una cosa che si contrappone un po' all'infrazione. Per cui le tendenze diciamo che si prospetta un 2024 similare numero di compravendita al 2023. E quindi un dato positivo. Sì, un dato positivo, esatto. Ma la richiesta è verso dove volgono? Quindi voi che avete tutto un quadro, ci sono più transazioni sul ristrutturato, quello da ristrutturare, il vecchio, cioè valori immobiliari alti, perché poi sono anche rilevanti questi aspetti. Sì, sono molto rilevanti. Dipende soprattutto anche dalla tipologia del cliente, da quanto può. E poi vediamo accesso al credito. Esatto, esatto, esatto. La pagina sull'accesso al credito. Esatto. Bisogna capire l'età, l'età del cliente, la possibilità di spendere. E quindi indubbiamente anche quella speculazione che comunque rimane nel comune, legata proprio come dicevo prima al mondo del turismo e al mondo dello studente, dell'università. Quindi ci sarà sempre chi cerca anche l'immobile vetusto per il quale può spendere meno nell'acquisto e poi investire magari nella ristrutturazione, una ristrutturazione magari un po' meno importante. Esatto, perché l'aspetto, e qui un po' riguarda sempre un po' le tendenze, è quello che chi ha una famiglia o comunque vuole un immobile che abbia delle certe dimensioni. Infatti. E gli immobili vecchi, i tre vecchi, perché ormai sono vecchi, quelli degli anni 70, le dimensioni ce li hanno grazie a dire, possono contenere persino i mobili, i mobili, il guardaroba. Cioè che è una cosa incredibile. Le case nuove invece non sono previste, non sono previste per gli uomini praticamente, senza mobili, senza vestiti, senza, non si sa, sgabuzzini. Cioè anche il modo di costruire adesso magari forse si auspica abbia subito un'evoluzione, però c'è stato tutto un periodo in cui veramente mancando corridoi, essendoci open space, entrate, mancava lo spazio anche per i mobili, per cui io vedo che tante persone che hanno famiglia hanno esigenze di più stanze a un prezzo accessibile. Infatti dipende molto dal cliente che acquisisce, e chi acquisisce per investimento predilige un appartamento magari in centro a Padova, o nei comuni limitrofi, appunto perché è facilissimo, le locazioni adesso sono impossibili da trovare. Per chi invece è un acquisto a livello familiare, è chiaro che spostandosi nella provincia di Padova, si ottiene delle metrature molto molto più grandi, a parità di prezzo. Mentre prendiamo un appartamento a Padova, ci prendiamo una villa nella provincia di Padova, per cui dipende appunto da queste esigenze. Anche dagli spostamenti legati al mondo del lavoro, legati al mondo della scuola. Come sempre dico, il ruolo della gente immobiliare è un ruolo sociale, perché quando vengono a colloquio da noi e ci raccontano uno spaccato della loro vita, e ci raccontano come vivono, dove lavorano, dove vanno i figli a scuola, allora noi dobbiamo cercare di individuare l'immobile che sia il più vicino alle loro necessità, perché anche gli spostamenti da un quartiere all'altro, da una zona all'altra della città, in alcuni momenti abbiamo visto essere piuttosto difficili. E quindi nella qualità della vita, nel quotidiano, chi sceglie casa la sceglie anche in funzione della vicinanza al mondo della scuola, al mondo del lavoro, ai nonni, perché spesso e volentieri i nonni intervengono nell'aiuto quotidiano ai bambini, per ottenere i bambini, i nipotini, quindi sono tante le dinamiche che entrano in campo le richieste, i quesiti, e noi, come dire, ascoltiamo e cerchiamo di esaudire il desiderio, il desiderio della casa migliore. Certo, questo è anche molto importante. Torniamo su questi aspetti, anche parlando sempre dell'osservatorio, però abbiamo prima la pubblicità, quindi restate sempre con noi. Pochi secondi.